Sì, l'otorinolaringoiatra è un medico specialista che si occupa delle patologie e delle alte vie aerodigestive. Comunemente si ha una visione piuttosto limitata dell'otorino, si pensa all'otorinolaringoiatra come al medico che visita le orecchie, toglie il tappo di cerume, tutt'al più toglie le tonsille, le adenoide al bambino. Invece è una disciplina, seppur specialistica, che ha una grossa variabilità al suo interno. Pensiamo che passiamo da patologie dell'orecchio, a patologie del naso, a patologie delle alte vie respiratorie, delle alte vie digestive e a tutte le patologie del collo. Ma soprattutto è una disciplina che ha un'estrazione fondamentalmente chirurgica. Ecco, noi otorinolaringoiatri siamo fondamentalmente dei chirurghi e gran parte della nostra attività si svolge all'interno delle sale operatorie. Ed è una disciplina anche che richiede un'interazione, una rete diciamo multidisciplinare di collaborazione. Collaboriamo ad esempio con i chirurghi maxilofaciali, collaboriamo ad esempio con gli oculisti, collaboriamo con i neurologi, con i neurochirurghi, ad esempio con gli endocrinologi per tutta la patologia della tiroide. Vi è una grossa variabilità e un'importante multidisciplinarietà e quindi seppur all'interno di una branca molto settoriale della medicina, della vasta gamma che offre la medicina, ecco la nostra è una specialità che all'interno ha diverse nicchie ed è una specialità molto affascinante perché diciamo abbraccia diverse discipline, abbraccia attività di tipo ambulatoriale, ad attività di tipo chirurgico e quindi questa è una visione un po' più completa dell'otorinolaringoiatra. Il nostro reparto è un reparto che abbraccia diciamo tutte le discipline e tutte le patologie dell'otorinolaringoiatria, però fondamentalmente il nostro reparto è riconosciuto come centro di riferimento regionale per i tumori della laringe, questa è un po' la peculiarità che caratterizza questa unità operativa e questa è una storia che nasce negli anni 70 grazie al professor Italo Serafini, professore universitario di Padova che venne a fare il primario qui a Vittorio Veneto e introdusse tutte le tecniche chirurgiche conservative della voce. La laringe è questo organo che noi chiamiamo volgarmente il pomodadamo, al suo interno ci sono le corde vocali ed è un organo che ha diverse funzionalità oltre che a consentire la voce, permette la respirazione e la deglutizione. Un tempo quando c'erano delle patologie di rilievo di tipo tumorale a livello della laringe venivano previsti solamente interventi mutilanti che prevedevano la laringeotomia totale, il tracheostoma diciamo definitivo e quindi uno era costretto a rimanere tutta la vita con questo volgarmente buco in mezzo al collo. Ecco il professor Serafini fu un pioniere delle tecniche conservative della voce, della laringe, quindi cercare di guarire dalla malattia però mantenendo anche una qualità di vita buona. Poi nel 2000 andò in pensione, negli anni 2000 andò in pensione, è preso in mano questo reparto il dottor Rizzotto, il mio maestro e chi mi ha preceduto, il quale ha implementato l'attività chirurgica, ha introdotto delle novità da un punto di vista delle tecniche chirurgiche ed ha dato visibilità anche da un punto di vista scientifico a livello internazionale con delle pubblicazioni importanti. E poi da tre anni a questa parte sono subentrato io a portare avanti questa tradizione ed è una tradizione che continua soprattutto anche come riferimento per pazienti che arrivano da altre parti d'Italia, più del 50-60% dei pazienti che hanno problematiche di tumori delle alte vie respiratorie vengono da fuori regione e quindi per noi è importante continuare a mantenere uno standard qualitativo molto alto sia da un punto di vista dell'innovazione della crescita, dell'innovazione di tipo tecnologico perché comunque ci sono pazienti, molti pazienti che vengono da lontano. I numeri si attestano su dei 250 ai 300 nuovi casi di tumore della laringe all'anno che noi trattiamo e quindi sono 250 ai 300 nuovi casi che noi dobbiamo trattare chirurgicamente andando da tecniche chirurgiche tradizionali per via esterna a tecniche invece più innovative che sono ad esempio tecniche endoscopiche che evitano i tagli dall'esterno attraverso la chirurgia laser, attraverso una strumentazione innovativa da un punto di vista tecnologico. Questo all'interno di un'unità operativa che si occupa di tutti i settori dell'otorino-laringoiatria all'interno di un numero di interventi che sono intorno ai 2700-2800 interventi all'anno che abbracciano insomma interventi che vanno dall'ambito pediatrico come la tonsillectomia, la deenoidi, a interventi di tipo funzionale come la settoplastica, a interventi che riguardano l'orecchio, le timpanoplastiche, le stapedoplastiche, interventi che riguardano le ghiandole salivari, la ghiandola tiroide e via così. Diciamo che le patologie di rilievo di tipo oncologico delle alte vie respiratorie in generale è ormai assodato che sono correlate per la maggior parte con il fumo di sigaretta e del consumo alcolico, quindi questo si sa che la prevenzione primaria significa evitare queste abitudini perché sono non una causa ma un fattore predisponente alla comparsa di lesioni di tipo tumorale. Poi vi è una prevenzione secondaria che è quella di una diagnosi precoce e quindi una visita dall'otorino-laringoiatria in chi è predisposto o chi ha queste abitudini dovrebbe diventare rutinaria o comunque farsi fare una valutazione dall'otorino-laringoiatria nel momento in cui ci sono dei sintomi che possono essere sospetti, che sono fondamentalmente un abbassamento di voce, che è uno dei primi sintomi, una difficoltà a deglutire oppure anche una difficoltà respiratoria. Ovviamente parliamo di disturbi che devono persistere per più di 10-15 giorni, lasciando il tempo di valutare che non sia un episodio di tipo infiammatorio come può essere una laringita, un mal di gola, una tonsillite, patologie invece che possono essere stagionali, e flogistiche. Comunque insomma il passaggio fondamentale è quello di cercare di evitare i fattori predisponenti e cercare in caso di sintomatologia di fare una valutazione specialistica. L'ambito formativo e la formazione didattica qui per noi in Otorino-Vittorio Veneto è molto molto importante, anche qui c'è una tradizione che nasce sempre con il professor Serafini e poi portata avanti dal dottor Izzotto. Noi ogni anno organizziamo un Master internazionale di laringologia oncologica, sono delle giornate in cui noi svolgiamo un'attività chirurgica in diretta alla quale partecipano 80 partecipanti provenienti da tutto il mondo e quest'anno abbiamo introdotto anche la diretta streaming, quindi con la possibilità di collegamento dai vari paesi di tutto il mondo. Invitiamo dei personaggi di spicco, nell'ambito della laringologia, dell'otorino-laringoiatria anche in ambito internazionale e questo è un momento importante sia formativo per chi partecipa a questi corsi che sono specialisti otorino-laringoiatri ma anche un momento importante di confronto e di update, di crescita, di aggiornamento a fianco a questo Master internazionale che è l'evento scientifico più importante che abbiamo già tenuto a giugno di quest'anno e che riproporremo nel prossimo autunno. Svolgiamo degli eventi formativi satelliti dedicati solamente a pochi specialisti, i quali possono venire in sala operatoria con noi, possono partecipare agli interventi chirurgici e possono proprio eseguire un training chirurgico. Tutto questo accompagnato anche da un'attività scientifica discreta, nel senso che svolgiamo continuamente ricerca sulle innovazioni che noi portiamo e cerchiamo sempre di pubblicare i nostri dati, i nostri risultati all'interno di riviste scientifiche. Quindi tutto ciò rientra all'interno di un ambito sia formativo scientifico che per noi è molto importante per riuscire a mantenere uno standard qualitativo poi che si ripercuote nella quotidianità, nelle prestazioni diciamo di visite ambulatoriali chirurgiche che svolgiamo quotidianamente.